Ciao amici, Massimiliano per The Geekers, OnePlus Nord 2T 5G alla prova delle sue fotocamere. 32 megapixel qui di fronte, 1080p in questo momento, e poi Sony IMX 766 da 50 megapixel, 8 megapixel grande angolare e 2 megapixel macro, con la solita prova cui siamo abituati qui su The Geekers per testare le fotocamere di ogni smartphone che arriva in prova. Questa volta tocca al OnePlus Nord 2T 5G, vedere come se la cava con le sue fotocamere, una registrazione fatta qua, una registrazione in un posto decisamente migliore, ma quello che conta è che voi continuate a seguirmi e a verificare e a farmi sapere se quello che io trovo sui nostri telefoni corrisponde a quello che voi ne pensate. Massimiliano per The Geekers, fotocamere di OnePlus Nord 2T 5G. Eccoci qua, 8 megapixel, lente grande angolare, OnePlus Nord 2T 5G, con questa ripresa in full HD, con la lente grande angolare e il mare di Imperia, che è sempre un bello spettacolo, anche contro sole, vicino alla spiaggia libera, scogli. Peccato non potersi fare un tuffo perché qui è veramente uno spettacolo. E qui invece siamo in 4K, andiamo a vedere un po' di avvicinarci subito. Lente principale, 50 megapixel, 10x di ingrandimento e torniamo indietro, Sony IMX 766 che riprende con la registrazione in 4K nel favoloso mare di Imperia, qui per The Geekers che prova le fotocamere del OnePlus Nord 2T 5G. Un bel 360 che prenda anche la spiaggia. È una giornata caldissima, ci sono 38 gradi e il mare non fa che venir voglia di un bel bambino. OnePlus Nord 2T 5G, alla prova delle sue fotocamere, 4K, 50 megapixel, qua a The Geekers. Grazie. Grazie.